Grazie a tutti. Il palo di legno che mettono ai vampiri. Si parla, come si parla? Dimmi, Patrizio. Ma la croce tu l'hai, Michel? No, avete la croce voi. Ah, c'è buona la merda. C'è buona l'alba. C'è buona l'alba. Non, c'est super psicologico, parce que j'ai regardé la camera d'Alex. Du coup, il y avait un énorme tasque, un portier, un portier, un portier, un portier. C'è buona l'alba. C'è buona l'alba. Il faudrait que je mette de la musique qui soit un peu dans l'ambiance. Et après, vous verriez des sorcières de partout. Il faut que je mette de la musique qui soit un portier, un portier, un portier, un portier, un portier, un portier, un portier. Il four à laoule. Allaites. L'alba. Allaites. Il s'estime, Michel. которые inbouten? o ci vuole fare una cosa più... No, possiamo anche fare interviste alle 20. C'è una roba quasi giornalistica o deve essere più... 3 ore, arriviamo, arriviamo. È scritto? 3 ore. 3 ore. Guarda, guarda. Questo? E questo? Sì, è questo. Le sacsie. Tremate, tremate, le spreghe sono tornate. Allora, noi ne abbiamo il tre in auto. No, sì. Allora, noi ne abbiamo il tre in auto. Allora, noi ne abbiamo il tre in auto. Grazie. Ti filma, ti fa un film di te. Ma siamo le ultime streghe. E' vero? Voi siete le ultime streghe. E' vero? Ci da, ci da. Anche tu? Cosa fare? Anche tu sei la... Eh, io sono già un po' vecchia, ma... Ma vado bene la stessa. Un po' vecchia. Cazzo! C'ho realmente la punta, no. Cazzo! Un grande sorriso. Un viaggio all'estero Ma io ho dei veri dei miei Grazie Grazie Grazie